Sarà Union Team Chimera Tuscar la finale dei play-off di terza categoria, si interrompe così dopo 17 turni, frutto di 15 vittorie e due pareggi, la striscia positiva della Fortis è battuta in casa nella semifinale spareggio 2-1 dall'Union Team Chimera, lo stesso risultato con cui aveva vinto le gare in campionato. La formazione di La Torraca, dopo essere passata in vantaggio, non è stata Cini che alla distanza è venuta fuori l'Union Team Chimera che con due calci piazzati ha ribaltato il risultato. Vantaggio Fortis nel primo tempo, Angioli serve Pecorari che di testa, prolunga per Brunacci, abile a battere Paggini, 1-0. Nella ripresa si materializza la rimonta dell'Union Team Chimera, calcio di punizione, tiro di Aschalev respinto, secondo tentativo vincente di Conti e 1-1. Un paio di minuti arriva il sorpasso, angolo battuto da Bennati, Guidelli svetta su tutti e di testa mette inesorabilmente alle spalle di Claudi, 2-1. Ora saranno Tuscar e Union Team Chimera a giocarsi la finalissima per la promozione in seconda categoria. Grazie. 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 Grazie.